Ragusa, la protesta dei forestali, paralizza la città. Dipendenti del consorzio di bonifica da sei mesi senza stipendio. A Modica, libri antichi della biblioteca rischiano di andare perduti per sempre. Pozzalla, una targa in onore del preside Antonino Gennaro. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. Questa mattina a Ragusa la protesta dei forestali che ha paralizzato la città. Sentiamo. Hanno manifestato questa mattina davanti alla loro sede i forestali di Ragusa paralizzando la città. Una protesta che si muove perfettamente in linea con tutta la Sicilia. A manifestare sono infatti tutti i 20.000 forestali siciliani. Da questa mattina i forestali del corpo ragusano hanno protestato tra Viale Europa e Via La Malfa. Noi siamo in blocco. Abbiamo bloccato intanto qua a Corsitalia, davanti alla prefettura e così via. Ad oggi praticamente ci sono due blocchi sulla provincia di Ragusa. Uno è fatto subito all'Europa, uno è fatto qua davanti alla prefettura. La problematica è che i giorni passano e praticamente non si arriveranno a fare le giornate di copertura e di fascia di garanzia occupazionale. E proprio questa mattina, in contemporanea con la protesta, si è svolta a Palermo la riunione decisiva della Commissione Bilancio, che ha messo una pezza alla situazione sbloccando i fondi che permetteranno ai forestali una settimana di attività. Dopodiché o arriverà lo sblocco degli 88 milioni di euro dei fondi Cipe o la situazione potrebbe seriamente peggiorare, come ha spiegato Maurizio Grosso, segretario regionale della Sifus Confail. In giornata tutto si dovrebbe risolvere, però guardiamo bene che non stiamo parlando di miliardi di euro, stiamo parlando di somme che nella migliore delle ipotesi consentiranno di continuare per un'altra settimana. Quindi se entro una settimana non sarà disponibile la delibera Cipe con gli 88 milioni di euro garantiti dal governo Venti, è chiaro che il problema si riproporrà con tutta la sua violenza. I dipendenti del Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa da sei mesi non ricevono lo stipendio, un grave disagio finanziario per molte famiglie. Da sei mesi il collettivo dei dipendenti del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa non percepisce stipendio. 150 famiglie in difficoltà che non riescono a far fronte alle esigenze minime ed essenziali, una condizione che ha messo i lavoratori in grave disagio finanziario. Nonostante il mancato pagamento degli stipendi e la difficoltà di pagare la benzina per raggiungere il proprio posto di lavoro, gli operai continuano a prestare il proprio servizio con un senso di responsabilità, rendendo sempre più efficienti, efficaci ed economici i servizi alle aziende agricole. Tale ente che svolge nel territorio ragusano dei servizi resi all'agricoltura e alla zootecnica ha da sempre lavorato nel rispetto della legalità e dell'etica professionale. La regione siciliana, che nel tempo ha determinate presupposti di tante situazioni di criticità, ancora oggi non ha la consapevolezza di cosa vuol dire far stare delle famiglie per sei mesi senza stipendio. Si continua a giocare sull'esasperazione dei dipendenti. Quando al popolo si toglie la speranza, la dignità del suo lavoro, è logico aspettarsi una reazione uguale e contraria. I lavoratori gridano a gran voce la loro esasperazione. Non ne possiamo più di promesse, di parole, di documenti, di viaggi della speranza. Vogliamo essere pagati per il lavoro fatto. La Fai Cisle e la Fibri Will stanno tentando ogni strada percorribile per la salvaguardia degli emollumenti e dei livelli occupazionali, uno sforzo che sembra essere inutile. Quello che i dipendenti rivolgono è un appello alle autorità per la loro mobilizzazione a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la normale gestione del consorzio riconosciuto a tutti i livelli fra i migliori della Sicilia. E sempre a Raguse il duro scontro verbale avvenuto durante la seduta del Consiglio Comunale tra Sonia Migliore e il consigliere del Movimento 5 Stelle Dario Gulino potrebbe finire a vie legali. Potrebbe prendere la strada legale, il duro scontro politico e non solo tra la consigliera Sonia Migliore del Laboratorio 2.0 e il consigliere del Movimento 5 Stelle Dario Gulino avvenuto durante l'ultimo Consiglio Comunale. Con una nota ufficiale, Sonia Migliore annuncia che le dichiarazioni rese durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Ragusa da parte proprio di Dario Gulino che ha sostenuto che la sottoscritta ha tentato di comprarlo sono gravissime e false, scrive la consigliera, poiché quelle parole sono state dette in aula consigliare trasmesse sia in diretta streaming che su un'emittente televisiva locale, la nostra di Canale 74, oltre a essere state riprese da alcuni organi di stampa. Ritengo sia stata danneggiata pesantemente la mia reputazione e per questo motivo procederò nei suoi confronti con una querela per diffamazione e danno d'immagine. E aggiunge, ho sorvolato troppo spesso su offese personali di natura diversa e questa volta è arrivato il momento di spiegare ai membri del Movimento 5 Stelle qual è la differenza tra un attacco politico, la dialettica e un delitto previsto dal codice penale del nostro Paese. I fatti cui ci si riferisce sono avvenuti durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale mentre l'amministrazione dava risposta scritta ad una interrogazione delle consigliere comunali migliore in Icita sulle attività di volontariato comunale e sui rapporti con l'associazione Aezza di cui Dario Gulino è proprio vicepresidente. Una polemica che già nell'ultimo scorcio del mese di agosto aveva visto uno scambio di roventi prese di posizione tra le due consigliere e i vertici locali nazionali della stessa associazione. Gulino da parte sua riporterebbe lo scontro al suo diniego di entrare nel laboratorio 2.0 ma la polemica non finisce qui. E a Modica il fondo antico della biblioteca rischia di essere perduto. Conservazioni inadeguate in locali umidi e sporchi. Libri di valore unico e inestimabile che rischiano di rovinarsi per sempre. Non si tratta certo di un po' di polvere come qualcuno vorrebbe far credere. Qui ci si trova di fronte a una vera vergogna senza uguali e senza precedenti. La storia millenaria di Modica racchiuse e riportate in un fondo antico di libri di un valore inestimabile che rischia di andare perduto per sempre. Per colpa di chi ha rilegato il fondo in locali inadeguati attanagliati dall'umido. La rovina per ogni libro, soprattutto quelli antichi. La terribile scoperta già da tempo denunciata da molti arriva da Ivana Castello che ha visitato i locali. La chiusura ormai da quasi un decennio, tempo già di per sé assurdo e inaccettabile, aveva comportato che i libri finissero in parte i cellofanati e oggi si trovano sistemati in qualche modo in tre sedi. Il fondo moderno nel palazzo Moncada, il fondo antico in due stanze del palazzo esposte e in una stanza del municipio. Tutti i libri sono 35.000 e di essi 7.520 costituiscono il cosiddetto fondo antico. Sono libri questi ultimi che datano dal 400 sino al 700. Già la sovraintendenza aveva puntato il dito contro l'inadeguatezza dei luoghi in cui è conservato il fondo antico. I libri infatti sono stati sistemati in alcuni scaffali all'interno di un garage e di una stanza in cui non mancavano e non mancano umidità e muffe. Inoltre la sovraintendenza aveva stanziato la somma di circa 4.000 euro per la spolveratura e la disinfestazione dello stesso fondo antico, stanziati proprio dalla sovraintendenza su fondi regionali. L'amministrazione il 21 gennaio 2014, dopo innumerevoli pressioni, aveva chiesto l'autorizzazione a spostare i libri dal palazzo esposte alla sala delle udienze di Palazzo della Cultura, già sede del vecchio tribunale giudiziario di Modica. L'autorizzazione è stata concessa dal sovraintendente il 30 gennaio 2014, ma soli 20 giorni dopo, il 12 febbraio, in sede di sopralluogo congiunto sovraintendenza comune, l'amministrazione aveva comunicato di aver cambiato idea e di non volere più sistemare il fondo antico nella sala delle udienze. Questo ha indotto la sovraintendenza ad aspettare qualche settimana o mese addirittura, perché di lì a poco sarebbero terminati i lavori di Palazzo Moncada e i libri avrebbero potuto essere sistemati nella sede destinata definitivamente a loro. Da due anni tutto è rimasto immutato e gli antichi e preziosi libri ammuffiscono. I cittadini ora chiedono il perché il progetto biblioteca sia nuovamente naufragato e che fine facciano i 10.000 euro che i cittadini stessi pagano con la Tasi per un servizio biblioteca che è chiuso. E ora la cronaca a Niscemi tentata estorsione arrestato un giovane dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Niscemi hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentata estorsione un giovane Niscemi di 27 anni. Lo stesso, con più azioni costituenti, un medesimo disegno criminoso aveva tentato di estorciare a un familiare una serie di somme ingenti di denaro che non potevano essere date dallo stesso. I carabinieri, allertati dalla denuncia, si sono recati in casa e con un'attenta attività di osservazione hanno captato le minacce gravi effettuate dal giovane di uccidere il congiunto qualora la somma non fosse stata corrisposta. Quando il giovane ha iniziato ad alzare la voce e a venire in contatto fisico con la vittima, i militari dell'arma sono intervenuti arrestando il malfattore. Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondaliare di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. A tra poco. La Cornice, laboratorio artigianale e galleria espositiva. Esperienza ultraventennale, realizzazione di cornici su misura di qualsiasi stile, epoca, dimensione. Galleria d'arte con ampio spazio espositivo di quadri d'autore e capolavori di alcuni dei migliori maestri pittori. A Modica, www.lacornicemodica.it L'Agenzia Onoranze Funebri Assenza è un'azienda familiare che da 26 anni mette al tuo servizio tradizione, innovazione, onestà e trasparenza. Un servizio sempre puntuale e impeccabile alla portata di tutti, mettendo a disposizione la propria professionalità con discrezione e affidabilità per l'estremo saluto al vostro caro. Assenza, Onoranze Funebri dal 1989 a Modica, in corso Sandro Pertini 60. Lo studio danza Coreios di Caterina Abela, scuola professionale di danza, propone i corsi di danza classica, modern jazz, danza contemporanea, gioco danza per i più piccoli. Iscriviti nei centri di Modica, Ragusa e Ispica. La professionalità che fa la differenza. Info alla 333 32 53 492. E a Ragusa il 15% in più nella domanda di credito da parte delle aziende. A rilevarlo il CRIF che parla di segnale positivo per l'economia. Ragusa è risultata la provincia con l'incremento più sostenuto per quanto riguarda la domanda di credito inoltrata dalle imprese nei primi nove mesi del 2015, con un eloquente più 15% rispetto al corrispondente periodo 2014. La Sicilia in generale ha visto una crescita del più 8,2%, ben superiore rispetto alla media nazionale, che si attesta solo al più 3,2%. A rilevarlo il barometro CRIF. Seguono Ragusa, Palerme e Catania. Fanalino di Coda invece per Caltanissetta, che è stata la provincia che ha fatto registrare la crescita più contenuta in regione, con un aumento dello 0,1%, seguita da Siracusa con un più 1,4%. In controtendenza rispetto al trend nazionale, invece, per quanto riguarda gli importi richiesti, la Sicilia ha fatto registrare una diminuzione del meno 2% rispetto al pari periodo 2014, che ha determinato il valore medio richiesto ad attestarsi a 53.703 euro. Dati estremamente positivi, ha sottolineato Simone Capecchi, direttore Sales and Marketing di CRIF, che testimoniano una maggiore fiducia delle aziende nel mercato e nella ripresa che le porta a investire, anche grazie alle più favorevoli condizioni di accesso al credito. E a Pozzallo, ieri all'Istituto Comprensivo Giuseppe Rogasi, la cerimonia di scopertura della targa in onore di Antonino Gennaro, storico preside della scuola. Una targa dedicata ad Antonino Gennaro, preside storico dell'Istituto Giuseppe Rogasi, che ha diretto dal 1962 al 1983. La cerimonia si è svolta ieri sera nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo, alla presenza delle autorità di tanti docenti e della dirigente scolastica dell'Istituto Grazia Basile, ma soprattutto dei figli Duccio e Nara, che hanno partecipato con grande commozione. Questa intitolazione dell'aula magna della scuola Rogasi a mio padre è un segno evidentemente del buon lavoro che mio padre, nell'arco di vent'anni, alla guida di questa scuola ha fatto. Il sindaco Luigi Ammatun ha ricordato con affetto la figura di Gennaro, che ha definito il suo preside una persona buona, garbata, seriosa, ma mai arrabbiata. E' emozionatissima anche la professoressa, Grazia Dormiente, che è stata prima alunna di Gennaro e poi lo ha ritrovato come preside durante il suo primo incarico da docente. Una giornata come questa significa non solo richiamare alla memoria, ma per me è stato come rivivere l'incontro del 1980, quando abbarcando la soglia di questo moderno edificio scolastico mi ritrovai dinanzi il mio ex professore di latino. Per cui ho avuto il privilegio, diciamo così, di avere nel preside di Gennaro il docente, il professore, il maestro di vita e anche la guida per avviare il mio insegnamento. La toccante cerimonia si è conclusa con la consegna ai figli di un mazzo di splendide rose e rosse, raccolte proprio dal giardino della scuola che il preside Antonino aveva tanto amato, curandolo personalmente con il personale scolastico. E' Claudia Colla, Mazzarino per i 40 anni di Ministero di Don Bilardo. Un ospite d'eccezione alla Basilica Santuario Maria Santissima del Mazzaro. L'attrice Claudia Colla ha infatti portato la sua testimonianza in un incontro a tema parrocchia, luogo della conversione e della misericordia, che si è svolta all'interno degli appuntamenti che hanno celebrato i 40 anni di parroco di Don Carmelo Bilardo. L'attrice Subret, star della televisione italiana, infatti intraprese il percorso di conversione a partire dal 2000, anno del giubileo, un percorso che l'ha portata a cambiare la sua vita e a rivedere la sua esistenza alla nuova luce della fede. Si è risvegliata la fede, che ha quindi cambiato la mia vita profondamente. Ho ritrovato il senso della mia esistenza, perché alla fine mi sembrava di girare e di girare, ma di non trovare il senso del mio esistere. E quindi, diciamo, il Signore ha dato concretezza vera alla mia vita. Il Signore ha dato a questa nostra sorella il dono della fede, che magari era sopinta, era nascosta, e poi gli ha dato la gioia di riscoprirla, di viverla in maniera molto forte e con tanta gioia. Bene, con questo è tutto. Il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. Grazie.